Mattinata tragica sulla via Emilia. A pochi chilometri da Ponte Nure, intorno alle 7.30, in un incidente, un uomo ha perso la vita. Alberto Tronchini, 44 anni, di Fiorenzuola, a bordo di una Fiat Punto era diretto verso il capoluogo valderdese, quando tra Ponte Nure e Ponteriglio si è scontrato con un camion che proveniva dalla direzione opposta. In base ad una prima ricostruzione, pare che l'auto abbia sbandato verso sinistra e il conducente del tir per evitare l'utilitaria ha sterzato, ma l'impatto c'è stato ed è stato molto violento. La Fiat Punto è finita nel canale e il conducente è morto sul colpo. Il camion ha sbandato, la motrice è uscita di strada e il carico ha occupato tutta la carreggiata bloccando la circolazione stradale. I vigili del fuoco hanno estratto senza vita dalle lamiere il conducente dell'auto. L'autista del tir è rimasto illeso. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica del sinistro fatale. Il tratto di strada è stato interrotto e il traffico deviato per diverse ore. Alberto Tronchini viveva a Fiorenzuola, non era sposato, lascia i genitori e un fratello.